Presidente Sebastiano, il termine di questa edizione numero 74, firma d'autore, come due anni fa Matteo Trentin, soddisfatto di com'è andata? Assolutamente sì, perché quando vince una gara così, un corridore così importante, la gara non può che averne vantaggi, quindi non me ne vogliono gli altri, però era un corridore che noi attendavamo su questo arrivo e non ha tradito le aspettative, per noi è importante. Due anni fa vinse con la maglia, se vogliamo essere un po' scaravantici, con la maglia azzurra, oggi con la maglia UAE, due anni fa arriva a seconda al Mondiale d'Herogate, tra una settimana c'è il Mondiale in Belgio, boh, chissà, magari cambia qualcosa. Gli ho appena detto che forse questa è la volta giusta, speriamo per lui, speriamo per i colori italiani, che quest'anno hanno raccolto tanto dappertutto, magari nel ciclismo manca, quindi speriamo che sia l'anno giusto anche per il ciclismo. Un bilancio caldissimo dell'edizione dal punto di vista organizzativo, di come è risposto il pubblico, di come hanno risposto gli atleti? Pubblico 10, l'organizzazione è stata quasi perfetta, tutto si può migliorare, però c'è una bellissima organizzazione dietro al Matteotti, c'è tanta gente che magari non è in prima linea, però lavora un anno intero per organizzarla, e noi la nostra speranza è sempre di migliorarci, di fare qualcosina in più nei prossimi anni.